Nasce ad Ascia Marina il Comitato Civico per la realizzazione del Museo Nazionale Elea Velia a cui potranno afferire diversi comuni e diverse associazioni del territorio cilentano. Incontriamo una delle promotrici appunto di questo progetto. Sì, mi sono fatta promotrice e stiamo dunque costituendo questo comitato civico per il Museo Nazionale Elea Velia. C'è da dire una cosa importante che il museo ricopre un ruolo essenziale, fondamentale per il rilancio della nostra economia, per il rilancio della nostra cultura, per il rilancio del nostro turismo. Quando parliamo di museo e di comitato per questo museo parliamo della realizzazione di un museo allargato che oltre a servire per il recupero della nostra identità e della nostra storia, della nostra cultura, serva anche come volano per la sponsorizzazione, per la valorizzazione dell'intero territorio. Noi abbiamo la fortuna di avere un sito archeologico, storico, filosofico, oltre che avere una storia anche della medicina, considerando che Parmenide era anche un medico. Abbiamo la fortuna di avere tutte queste cose invidiabili da tutto il mondo, per cui l'obiettivo è quello che sia un cuore pulsante che interagisca con l'intero territorio e quindi che riesca a ricoprire tutta l'area della Cora Velina, fino anche a Rocca Gloriosa, a Moio, in modo da interagire con tutti i siti archeologici, di tutti quelli che sono un po' stati i percorsi storici. Quindi una riqualificazione e una sponsorizzazione di tutto il territorio, per cui non solo un museo che valorizzi l'area archeologica, ma che sponsorizzi tutto il Cilento, quindi tutti i paesi limitrofi in modo coeso e chissà, magari da realizzare anche quel brand che non abbiamo ancora proprio per vendere il Cilento. L'obiettivo è proprio quello di fare un unico fronte comune e un comitato civico aperto a chiunque voglia aderire, tutte le amministrazioni, tutte le associazioni, tutti i singoli. Serve proprio per avviare delle campagne di sensibilizzazione con le istituzioni, proprio per realizzare questo obiettivo.